L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, come di consueto vediamo insieme alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione. Innanzitutto, estate sicura, sono iniziati infatti i controlli a mare da parte delle motovedette delle varie forze dell'ordine. Ancora sulla crisi politica risolta al comune di Ischia, ne parleremo con il presidente del Consiglio Comunale Ottorino Matera e poi interviene con un documento anche il gruppo di Forza Italia. Problemi di organico all'ospedale Rizzoli, ne parliamo con il direttore generale dell'ASL Napoli Due Nord d'Amore che ci dice tra l'altro che sono i medici che non vogliono venire a lavorare sull'isola di Ischia. Ed ancora, sempre nel comune di Ischia, stanno per completarsi i lavori di ripristino dell'ex mercato comunale in pieno centro. Ce lo annuncia l'assessore Luca Spignese. Ci spostiamo poi a Procida, è calato il sipario, sulla sesta edizione del Procida Film Festival. Vedremo infatti in un servizio il momento live delle quattro premiazioni, dei quattro corti che sono stati premiati tra i 2700 che sono giunti da ogni parte del mondo. Di queste di alta ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. La ditta alla raspata ti propone l'ultima novità. Gli Smoothies Nut Food, quando il buono fa rima con salute. Gli Smoothies sono buonissimi e freschissimi mix di frutta e verdura, naturali al 100%, senza conservanti, senza zuccheri aggiunti, fonte di fibre e antiossidanti. Scegli tra i gusti mango e lampone, fragola, mora e lampone, papaya, mango e ananas, spinaci, sedano, mela e cavolo. Gli Smoothies sono in porzioni monodose surgelate da 150 grammi e pronte per essere frullate nel blender. Da miscelare solo con 200 ml di succo di mela. E non tagli, non sbucci, non sporchi, non perdi tempo. Gli Smoothies, il buono che fa bene. È un prodotto distribuito in esclusiva dalla ditta alla raspata. Specialisti del buono. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. Quattro piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acquameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli. Per una serata speciale. Per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche. Tra il cielo e il mare. L'Acquam organizza Borgo in Festa per esaltare il Borgo di Ischia Ponte. Un'iniziativa voluta da commercianti ed albergatori per agliettare isolani e turisti. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping. Ogni venerdì dalle 20 alle 24 fino al 30 settembre. Borgo in Festa. Street Artist and Food. Ad Ischia Ponte. Il fascino di un'atmosfera unica. Le Terme di Ischia. Il benessere globale. Una struttura completamente rinnovata. Acque termali, terapie innovative, strutture all'avanguardia. Ti aspettano per restituire energia e benessere al tuo corpo. Reparto fango e balne terapia. Zona benessere con sauna, bagno turco e le stanze del sale. Reparto beauty. Reparto di fisioterapia. Le Terme di Ischia. Sono aperte tutti i giorni. Dalle 7 alle 22. Cure termali convenzionate. Per il corpo. Per il benessere globale. Le Terme di Ischia. Per vivere meglio. EcoArt. Il tuo nuovo punto di riferimento per tendo strutture e tende. EcoArt realizza la tendo struttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt. È concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt. Mette a tua disposizione un'equip di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt. Artigiani per l'ambiente. È un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale. Per il tuo giardino. Rivolgiti a EcoArt. Mille soluzioni. Per offrirti solo la soluzione migliore. Scarabile creando. Non c'è sia 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 sia. Masi S e Roma mat морale. Per offrirti solo la soluzione migliore. SONSHINE SONSHINE E' stata sicura al via e controlli a mare delle forze dell'ordine. Le motovedette della Guardia di Finanza sono entrate in azione per le verifiche sui natanti ormeggiati attorno all'isola. Avviata anche quest'anno dalla Capitaneria di Napoli l'operazione Mare Sicuro lungo i 500 chilometri di costa della Campania. Ischia, crisi politica risolta. Ripartiamo con Mazzella e Sorrentino. Il presidente del Consiglio Comunale Ottorino Mattera commenta hanno sposato il nostro progetto politico e sulla maggioranza risicata assicura presto nuove adesioni. Intanto Forza Italia prende le distanze dall'ex capogruppo Antonio Mazzella. Problemi d'organi col Rizzoli? I medici rifiutano di venire ad Ischia. Il direttore generale dell'Asla, Antonio D'Amore, chiarisce che in 11 bandi per anestesia ed ortopedia nessuno ha accettato l'incarico. Ritorna l'urgenza della dichiarazione dell'isola zona disagiata. E' una scelta politica ma utile, chiarisce D'Amore. Ischia, il vecchio mercato comunale, presto tornerà al suo splendore. Finalmente i lavori sono in fase di ultimazione. Quest'opera restituirà le connotazioni delle vecchie tradizioni locali. E' il commento dell'assessore Luca Spignese. Eventi, Procida Film Festival, calato il sipario sulla sesta edizione. Con la cerimonia di consegna dei premi, si chiusa l'edizione 2018 della Kermess. Tra i corti premiati, l'opera di una procidana, Martina Lubrano Lavadera, nella sezione Cartoon. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Apriamo con una notizia di cronaca, un furto al Tribunale di Napoli. Presso la grande struttura del centro direzionale è stato rubato questa mattina un computer. Il computer si trovava in un ufficio amministrativo che si trova al nono piano della Torre C del Tribunale di Napoli. Si tratta di una unità centrale di piccole dimensioni dove sono memorizzati dati sensibili. Le indagini della polizia si stanno concentrando sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Non è la prima volta che si verifica un furto del genere all'interno della struttura giudiziaria partenopea. E con l'arrivo dell'estate aumentano anche i controlli a mare effettuati dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei bagnanti e per verificare l'arrivo di eventuali presenze indesiderate. Come ogni anno, carabinieri, polizia, guardia di finanza e guardia costiera incrementano la loro presenza in mare e sull'isola di concerto con un quadro stabilito nel piano sicurezza varato ogni anno da prefettura e questura con i vertici delle forze dell'ordine presenti sul territorio. A conferma di tutto ciò, da giorni si nota l'attività delle varie motovedette in giro attorno all'isola. Stamani la motovedetta della Guardia di Finanza ha effettuato a tal proposito diversi controlli nelle acque antistanti le coste tra Casa Micciola e l'Acquameno, visionando documenti ed ispezionando a bordo i natanti che avevano ancorato in questo tratto di mare. Ed anche quest'anno la Guardia Costiera ha dato il via alla complessa operazione Mare Sicuro che vedrà impegnata la Direzione Marittima della Campania a tutela della incolumità dei bagnanti, a difesa dell'ambiente marino e a garanzia della sicurezza di quanti andranno per mare. L'operazione fino al 16 settembre vedrà impiegati ogni giorno oltre 100 uomini e donne e circa 50 mezzi navali della Direzione Marittima lungo tutti i 500 chilometri di costa della Campania. I militari avranno il compito di vigilanza delle zone di mare riservate in via esclusiva alla balneazione assicurando il rispetto delle unità da riporto e moto d'acqua, la verifica degli apprestamenti di sicurezza degli stabilimenti balneari, la verifica e la vigilanza sullo stato di efficienza e di sicurezza di traghetti e dei mezzi veloci adibiti al trasporto dei passeggeri che effettuano collegamenti marittimi con le isole e le località di pregio turistico, ancora la tutela dell'ambiente marino e costiero. La Guardia Costiera ha deciso di scendere in campo anche con una forte attività di sensibilizzazione, testimonial d'eccezione è Davide Tizzano, pluricampione olimpico di canottaggio. Il numero 1530 per l'emergenza in mare è sempre attivo sul territorio nazionale gratuitamente per il cittadino. Passiamo alla politica. Ad Ischia è stata risolta la crisi politica con l'avvento in maggioranza di due consiglieri eletti all'opposizione, Mazzella e Sorrentino, ovviamente precisa il presidente del Consiglio Comunale Ottorino-Mattera, che entra, sposa in pieno il progetto politico della bella Ischia di Enzo Ferrandino. Nonostante l'ingresso dei due dell'opposizione, con l'uscita dei quattro consiglieri di Vivere Ischia, si ha comunque una maggioranza risicata. Non sono escluse ulteriori adesioni a medio termine. Abbollato Ottorino-Mattera. Sentiamolo. Risolta la crisi politica al Comune di Ischia, il sindaco Ferrandino ha revocato le dimissioni. Presidente Ottorino-Mattera. Allora, come cambia adesso la geografia interna ai gruppi in Consiglio Comunale? Che cosa succede? C'è chi esce, c'è chi entra, chi passa di qua, chi viene di là. Abbiamo letto anche un documento interessante. Sì, del resto noi partiamo dalla vostra diretta, dove appunto i cittadini e il sindaco avevano dato annuncio al Consiglio Comunale e alla cittadinanza che c'era in atto una crisi politica ed era necessario lanciare un grido d'allarme che non poteva essere che allargato a tutto il Consiglio Comunale. Sia di quelli che oggi probabilmente non si trovano più in maggioranza, sia di quelli che stando nei banchi della minoranza potevano o non potevano raccogliere questo grido di dolore, di allarme, come vogliamo dire, rispetto all'ipotesi di governabilità del Paese e al quale evidentemente dopo tutti i contatti che il sindaco in prima persona ha tenuto con le minoranze è riuscito ad imbastire con alcuni di loro. È logico che il progetto politico rimane in piedi come era, sono cambiate determinate componenti e quindi chi entra sposa in pieno il progetto politico della Bella Ischia e di Enzo Ferrandino e quindi di tutta l'amministrazione uscente e quindi entrante con la nuova campagna elettorale che si è svolta un anno fa. Su quello, cioè sui temi, si andrà avanti. Quello che è il collante in questo momento sono la risoluzione dei problemi ataveci del Paese e questa è la sfida che è stata lanciata e che hanno raccolto alcuni di loro ed è con loro che si continuerà per cercare di trovare una quadratura a quelle problematiche. Nel frattempo i rapporti con i consiglieri di Vivere Ischia come sono? Ma onestamente per quanto ne so io insomma siamo rimasti al Consiglio Comunale con la loro assenza, qualche timido contatto penso si ci sia stato con il Sindaco e evidentemente non ha portato i frutti che si sperava di avere prima di arrivare alla definizione della crisi attraverso la revoca delle dimissioni, l'ingresso in giunta del nuovo assessore e dei consiglieri comunali con il documento che è stato pubblicato ieri. A proposito dell'ultimo Consiglio Comunale a sentire le dichiarazioni pubbliche dell'opposizione sembrava come se tutti insieme volessero aderire a questa richiesta invece poi così non è stato. Probabile che forse dietro c'era anche un po' di tatticismo parlo più per un mio punto di vista di osservazione per magari dare in quel momento la sensazione che ci fosse una compattezza che poi di fondo non c'era anche all'interno della minoranza. Nel documento oltre alle due liste di cui fanno parte i due consiglieri che adesso si ritroveranno con il gruppo di maggioranza è citata anche la partecipazione attiva della lista Fratellanza e Lavoro. Il cognome boccanfuso del nuovo assessore tradisce una familiarità a noi ben nota. Assolutamente, sicuramente quella lista è stata una lista che ha fatto l'ultima campagna elettorale con il cartello di Gianluca evidentemente ha ritenuto di essere poi parte insieme a quella di Salvatore o del figlio che oggi rappresenta quella lista in Consiglio di essere un'unica forza, un'unica componente staccandosi evidentemente anche non essendo Fratellanza e Lavoro rappresentata in Consiglio di avere anche lei attraverso il consigliere Antonio Mazzilla una possibilità di governo. In ultimo, lo so che probabilmente non è tanto per la quale però bisogna anche fare i conti con i numeri mi pare di capire che togli 4, metti 2, siamo lì ho un po' sbaglio Certi numeri sarebbero 8 contro 8 più il Sindaco è logico che questo emerge dai numeri che abbiamo adesso in Consiglio ma non vuol dire che quel ragionamento allargato non possa trovare anche delle ulteriori adesioni nel medio o lungo termine avvenire Non ci sono fatte attendere le prese di posizione di natura politica da parte dei gruppi di minoranza di Ischia dopo l'adesione dei consiglieri Antonio Mazzella e di Antonello Sorrentino al gruppo di maggioranza infatti con un documento sottoscritto dai consiglieri Giustina Mattere e Domenico Desiano il gruppo consigliare di Forza Italia prende atto della decisione incomprensibile del consigliere Mazzella ex capogruppo ribadendo che l'opposizione era pronta a rispondere positivamente all'appello del Sindaco a patto che al nuovo progetto partecipasse tutto il gruppo di minoranza nessuno escluso è evidente, scrivono da Forza Italia che le logiche politiche ed amministrative dell'attuale amministrazione comunale privilegiano invece logiche di potere e spartitorie che non ci appartengono prendiamo perciò atto della volontà del consigliere Mazzella di uscire dal gruppo di Forza Italia così rinunziando al ruolo di capogruppo consigliare con una decisione incomprensibile per la prospettiva ed opportunità politica che poteva svolgere in seno a Forza Italia intanto ad Ischia si avviano verso la conclusione i lavori all'edificio dell'ex mercato comunale nel cuore di Ischia Porto soddisfatto l'assessore Luca Spignese che commenta il progresso delle opere sentiamolo sono in dirittura d'arrivo i lavori all'edificio dell'ex mercato comunale nel cuore di Ischia Porto questa è un'opportunità da più punti di vista dall'occupazione al decoro urbano Sì, in effetti è veramente una cosa gradita tutta la popolazione la rinascita del vecchio mercato comunale ieri ci siamo recati proprio sul sito il Presidente del Consiglio per dare un'occhiata a che punto stava lo stato d'avanzamento dei lavori effettivamente la ditta sta percorrendo velocemente tutto quello che deve fare bene comunque che l'amministrazione abbia un occhio vigile su quello che si sta facendo per dare sicuramente un'impronta alle opere che intende finire ecco, il mercato comunale ce l'hanno chiesto in tantissimi specialmente nella zona oltre, come tu prima hai sottolineato a riportare le vecchie tradizioni in loco ci sarà anche sicuramente uno sviluppo delle attività che porterà anche di nuovo lavoro per tante persone che ne hanno bisogno per questo che auspico il coinvolgimento di tutti di tutta la zona perché una volta che sarà realizzato il vecchio mercato comunale dovrà essere mantenuto e ognuno di noi dovrà diventare responsabile di se stesse e delle attività che svolge intorno Ecco, allora parliamo delle funzioni di questo nuovo stabile saranno sempre adibiti al commercio i locali del mercato? Sì, effettivamente saranno adibiti nuovamente a un commercio tipico locale non qualcosa di industriale ma qualcosa proprio di tipico diciamo prettamente isolano ecco, prettamente isolano con magari anche rievocare vecchie attività che stanno scomparendo diventerà un centro di attrazione oltre che commerciale Ecco E torniamo sulle elezioni di Forio a due giorni dal vuoto che ha sancito nel turno di ballottaggio la conferma di Francesco Del Deo nella carica di sindaco del paese interviene Vito Iacono consigliere comunale uscente e candidato nella coalizione di Ignazio di Lustro Non c'è pacificazione credibile senza verità scrive Vito Iacono questo paese ha bisogno di verità oltre ogni logica e dinamica opportunistica una verità non animata da sentimenti di rivalsa o di vendetta solo la verità Il compito di ricostruire non è di chi ha vinto dice Vito Iacono o della pretestuosa politica solo sintesi ed espressione di una civiltà che nel nostro paese non c'è più Tocca ad ognuno di noi tocca alla scuola alla chiesa al mondo dell'associazionismo alle donne e agli uomini di buona volontà Continua il braccio di ferro tra il comune di Casamicciola e la diocesi di Ischia per l'utilizzo dei locali dell'ex asilo della sentinella di proprietà della Curia L'immobile fu requisito il 28 novembre con ordinanza firmata dal sindaco Castagna Successivamente la quinta sezione del TAR Campania ha accolto l'istanza di sospensione formulata con il ricorso presentato dal vescovo di Ischia Monsignor Lagnese e dal parroco di Santa Maria Maddalena Don Gino Ballidano A questo punto il comune di Casamicciola ha proposto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione espressa dal Tribunale Amministrativo Con delibera del 20 aprile è stato conferito in carico da parte del comune all'avvocato Ferdinando Scotto già difensore nel primo grado per l'assistenza e per la rappresentanza nel giudizio per il perfezionamento dell'incarico l'avvocato Scotto ha già sottoscritto apposita convenzione in data 17 maggio e con determina del responsabile affari legale contenzioso del 26 giugno è stata impegnata la somma di 1500 euro per il compenso del legale oltre l'IVA la Cassa Previdenza Avvocati le spese forfettarie al 15% nonché le spese non imponibili ed a Casamiccio la continua il contrasto all'abusivismo edilizio l'amministrazione comunale ha infatti acceso un mutuo pari a oltre 63.700 euro con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di procedere all'abbattimento di opere edilizie abusive in via Gradoni Celario si tratta di demolire un manufatto di celloblock a secco e lamere zincate la relativa tettoia anch'essa di lamere zincate sorrette da palli di legno aderente alla costruzione e un ulteriore manufatto chiuso su tutti i lati con copertura in lamere zincate una nuova voce di spesa inserita nel documento del bilancio pluriennale che l'amministrazione comunale di Casamiccio la si impegna ad estinguere in 5 anni parliamo di sanità sull'isola d'Ischia sulla carenza di personale all'ospedale Rizzoli di Raccomenio è intervenuto il direttore generale della ASL Napoli 2 Nord Antonio Damore è difficile reperire i medici sottolinea il direttore abbiamo fatto 11 bandi per l'isola soprattutto su anestesia ed ortopedia ma non accetta nessuno da qui la necessità della dichiarazione dell'isola zona disagiata sentiamo Damore ai turisti e ai residenti noi garantiamo comunque l'assistenza sempre e comunque il discorso oggi è un discorso che diventa più ampio noi a Rizzoli per esempio per dare la risposta a quelle che sono le problematiche più presenti dal mese di giugno per due volte a settimana il nostro primario oculista dell'ospedale di Pozzuoli viene a Rizzoli per operare di cataratta perché lo scempio che si verificava con la migrazione di pullman interi in terraferma di persone anziane per essere operati di cataratta doveva terminare abbiamo cercato di rafforzare il Rizzoli anche a Rizzoli come su tutti gli altri presidi oggi funziona un hobby di pronto soccorso quindi c'è un saldo attivo tra la movimentazione del personale infermoristico su Rizzoli di più 5 persone più 6 persone dal punto di vista infermeristico quello che è particolarmente difficile da reperire ma è un problema generale di tutte le discipline particolarmente per l'ortopedia e per l'anestesia sono i medici noi abbiamo fatto ben 11 bandi se non erro posso essere in errore o sono 11 o possono essere 10 o 9 non ricordo precisamente solo per l'isola solo per l'isola e molti sono rimasti completamente per l'ortopedia non abbiamo avuto domande per l'anestesia sul concorso non accetta nessuno come mai non è più appetibile l'isola la storia famosa della zona disagiata la storia della zona disagiata è una storia politica oggi dobbiamo capire il riconoscimento del disagio che benefit può portare è una lotta che ho iniziato io nel 2016 con il convegno fatto a Ischia insieme all'associazione delle piccole isole sono passati due anni io non so se il riconoscimento deve essere nazionale o regionale però so che è indispensabile perché può essere che il riconoscimento di benefit particolari può determinare anche la venuta di nuovi professionisti sull'isola la parola ciao compie 200 anni è la parola italiana più celebre dopo la pizza esaltata dai partigiani e dal festival di Sanremo la sua prima attestazione risale a Milano al 1818 grazie alla musica è stata la parola più diffusa nel mondo molti stranieri infatti quando vengono in Italia la pronunciano con padronanza la vera curiosità risiede però nell'origine della parola sembrerebbe che ciao derivi dal latino sclavum variante di slavum quando essere ridotte in schiavitù erano le genti di provenienza slava a partire dal 400 si introduce l'abitudine di salutare qualcuno dichiarandosi suo schiavo da qui la parola ciao che origina dal veneziano sciavo schiavo appunto il 1818 è però l'anno in cui la parola compare per la prima volta in forma scritta dalla penna del tragediografo cortonese Francesco Benedetti in una lettera che accenna le gentilezze ricevute da una signora che lo conduce alla scala e dai milanesi in genere si continuano a trovare reperti nella baia di carta romana nel sito archeologico sommerso di Enaria l'argomento è stato trattato dalla archeologa Alessandra Benini nell'ambito della quarta edizione degli incontri culturali sulla baia di carta romana organizzati da archeologica l'associazione culturale di promozione sociale si profila sempre di più l'importanza di questo antico porto ischietano ha giunto la ricercatrice che rappresenta un grande attrattore culturale e turistico per tutta l'isola sentiamolo quarta edizione per gli incontri culturali della baia di carta romana si tratta di tre giorni di incontri discussioni abbiamo con noi l'archeologa Alessandra Benini che tra l'altro diciamo terrà proprio un incontro una conferenza sugli scavi archeologici subacquei di Enaria intanto un commento proprio sull'iniziativa questa edizione degli incontri culturali per diciamo far partecipare le persone a quella che è una grande risorsa sì l'intento rimane sempre lo stesso quello di far conoscere agli ischietani a chiunque sia interessato come stanno procedendo i nostri lavori i nostri scavi perché ci teniamo che non sia un patrimonio sommerso ma cerchiamo di farlo emergere e portarlo a conoscenza di tutti quanti quindi la finalità di questi incontri fondamentalmente è questo quali sono le novità? le novità sono fondamentalmente che le strutture continuano quindi questo insediamento sta prendendo sempre più una dimensione sempre più ampia e soprattutto sta restituendo una quantità di ceramica di molteplici tipi e di un ampio arco cronologico per cui sempre più sta emergendo un aspetto di un porto relativo ad un abitato del quale ancora purtroppo non abbiamo notizie stanno cominciando a uscire dei frammenti di mura sia in laterizio che in opera mista non sono naturalmente al posto loro purtroppo però sempre più abbiamo la testimonianza che un abitato ci doveva essere ecco intanto invece come va il segmento proprio turistico legato alla Baia di Carta Romana ma quest'anno io anche parlando con i tour operator mi pare ci sia un po' un rallentamento noi continuiamo ad avere ospiti e bambini come sempre fondamentalmente le scuole ma è anche importante che vengano loro noi ci siamo speriamo prossimamente di incominciare a partire anche con snorkeling e immersioni non da questa stagione ma dalla stagione prossima saremo pronti e quindi speriamo di implementare con questa nuova possibilità questa nuova offerta culturale che daremo a chi viene a trovarci è calato il sipario sulla sesta edizione del Procida Film Festival la serata conclusiva con le premiazioni si è svolta sabato scorso all'hotel La Suite i corti premiati selezionati tra gli oltre 2700 pervenuti da ogni parte del mondo sono stati per la sezione Cartoon nell'acqua della procidana Martina Lubrano Lavadera per la sezione corti The Boy by the Sea dell'Etone Vasili Ciprina per la sezione Panorama Campania The Lost Day of Sea di Nina Jotti per la sezione documentari The Blinking Island dello spagnolo Diego Borges una menzione speciale è stata assegnata a futuro prossimo dell'americano Salvatore Mereu il sindaco Ambrosino ha confermato l'appoggio dell'amministrazione alla manifestazione crediamo a queste iniziative dice che incrementano il turismo rispettando l'identità di Procida ma vediamoci in questo servizio con le premiazioni con la nostra presenza cerchiamo di dimostrare sostegno a questo genere di iniziative che nel corso degli anni quando anche le opportunità economiche ci forniranno la possibilità di sostenere in maniera più importante lo faremo perché crediamo in questo genere delle iniziative perché crediamo al turismo ma al turismo a misura d'uomo che rispetti l'identità forte marinara di questo paese e anche l'identità culturale di Procida per la sezione cartoni animati premiamo nell'acqua di Martina Lubrano Lavadera omaggio raffinato e onirici all'Atlante di Jean Vigo ci trasporta nel mondo degli ectoplasmi sottomarini con viaggio lieve ed emozionante belle pulsioni dell'inconscio raffinatezza tatto e potenza stilistica fanno sì nell'acqua un'emozione potente che dagli occhi dello spettatore giunge diritto al cuore siano i cortometraggi The Boy Bad Sea di Vassili Ciuprina quando il vecchio racconta il bambino chiude gli occhi con ipnotica lentezza in quel momento ascolta dall'uomo in quel momento ascolta dall'uomo il racconto della vita futura le età si congiungono nel rapporto eterno tra vecchiaia e infanzia questo rapporto senza tempo è analizzato con raffinata drammaturgia dal regista Lettone con una squisita attenzione all'aspetto formale e una felicissima scelta degli interpreti menzione speciale al futuro prossimo di Salvatore Mereu per aver scritto la disumana vita e accoglienza dello straniero in terra se stranea evidenziando matura decisa e precisa tecnica cinematografica esposando la stessa con la poesia delle immagini la sonorità armonica della lingua africana è una storia imminente comunicativa e affascinante sezione documentari di Black Island di Diego Borges luogo di accoglienza e scoperta il mare è indagato con eleganza formale e potenza visionaria da questo documentario ispirato il lavoro coniuga la tradizione documentaristica inglese più nobile con la sensibilità autoriale del nuovo cinema europeo abbiamo l'ultimo da premiare che riguarda proprio la sezione che vi dicevo all'inizio della sezione panorama campagna dedicato proprio agli artisti della regione campagna allora Sandro chi premiamo premiamo Nina Iotti fulminante e delicatissima il lavoro della giovane regista napoletana che tratteggia con schesita adesione sentimentale l'ultimo anno di una vita di una vita disordinata di un poetico clochard restiamo a Procida la spiaggia del Postino al Pozzo Vecchio è la meta preferita dai VIP lo sottolinea soddisfatto l'operatore Carlo Ambrosino sentiamolo Carlo Ambrosino della spiaggia del Postino al Pozzo Vecchio la spiaggia più famosa di Procida quella più visitata dai VIP e da persone comuni Carlo come sta andando la stagione turistica beh diciamo a parte il tempo un po' bene se fosse giornate un po' più soleggiate sarebbe ancora meglio senti ma perché questa spiaggia ha tutto questo successo secondo te quali sono i punti di forza a parte il fatto che sta nel Postino allora è uno per sì Massimo D'Oriza ha fatto un gran bel lavoro ma poi anche la tranquillità la pace che si trova comunque non è una delle spiagge più affollate e poi giustamente tanti VIP che giriamo tramite i social che poi si fa sempre pubblicità è la loro meta preferita diciamo i tuoi VIP preferiti però sono i calciatori del Napoli diciamo ovviamente sì se mai venisse uno juventino qui e ti chiedesse una sedia a sdraio che cosa diresti? normale lettino e ombrellone 20 euro per loro 25-30 euro li possiamo anche chiedere perché sono più ricchi quindi possiamo fare un po' di soldi in più dai scherzo è uno scherzo un augurio per questa stagione turistica per tutti un augurio in bocca al lupo a tutti speriamo bene che il tempo sia giusto e diventano queste belle giornate calde soleciate viva Procida ovviamente viva il Pozzo Vecchio lo sport il calcio eccellenza prosegue senza sosta la campagna acquisti del Giuliano i Tigrotti hanno ufficializzato l'approdo di Tommaso Manzo in maglia giallo blé i primi contatti qualche settimana fa da prima la smentita del club poi l'accelerata decisiva che consegna a mister De Stefano un bomber di sicuro affidamento per la categoria ma non finisce qui i Tigrotti dopo aver ufficializzato Fava, Manzo e Sperandeo stanno valutando l'offerta giusta per completare il reparto avanzato con il capo cannoniere dell'ultimo campionato di eccellenza caso naturale il calciatore è in rottura con la società del Savoia ed il Giuliano è pronto a concludere un altro colpo da 90 gli appuntamenti la sagra napoletana arriva al centro di Procida grazie al forum dei giovani appuntamento domani alle ore 20 in via 4 novembre con le pietanze tipiche della cucina partenopea musica e buon vino il 28 giugno alle 18 presso il giardino dell'amicizia di Ischia ci sarà la premiazione dei balconi infioriti nell'ambito del concorso Ischia in Fiore la manifestazione organizzata dal Garden Club dell'isola di Ischia è giunta quest'anno alla ventitresima edizione nell'ambito del pomeriggio Paola Morgera terrà una breve conversazione sull'orto sinergico tra tradizione ed innovazione ed il 28 e 29 giugno presso il centro congressi del palazzo reale di Ischia si rivolgerà un corso di formazione per medici specialisti di cardiologia medicina interna di medicina generale del 118 e della guardia medica ed il personale infermieristico dell'ospedale Rizzoli il titolo elementi di elettrostimolazione tra diagnosi e terapia organizzato dai cardiologi del reparto di cardiologia dell'ospedale Rizzoli coordinato dal direttore Sansone e dal referente della elettrostimolazione dell'ASL Mattia Liccardo questo evento è stato organizzato ad un anno dall'inizio delle procedure di impianto di pacemaker e defibrillatori presso l'ospedale Rizzoli unico in Italia delle isole minori a essere dotato del servizio di elettrostimolazione ed ora come sempre spazio al meteo vediamo che tempo farà sulla nostra regione revisioni per oggi al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna nubi e schiarite con possibili piovaschi nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali revisioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali bene siamo arrivati in coda a questo telegiornale vi lascio come sempre in compagnia dell'Isola Siamo Noi tra i consigli del fitness del maestro Roia e poi ancora la pagina di storia isolana con l'avvocato Di Meglio ed in conclusione il rotocalco eventi in anteprima tv noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14 arrivederci a